Torino, la storia della città. Nella terra dei Taurini, dalla confluenza tra Po e Dora, là dove il Po inizia a essere navigabile, i Romani trasformano il precedente insediamento nella colonia di Augusta Taurinorum. Delle quattro porte turrite che interrompevano le mura, resta la sola Porta Palatina, mentre il Cardo e il Decumano, i due assi principali del suo regolare impianto viario, sono le attuali vie Garibaldi e Sant'Ommaso. Dopo la caduta dell'Impero Romano, Torino è fortificata dagli Ostrogoti, invasa dai Burgundi, conquistata dai Longobardi e dai Franchi. Diventa un Principato Vescovile. E a questo potere si affianca un governo comunale. La città si trova sulla Via Francigena, strada che collega l'Italia alle Fiere delle Fiandre, e i pedaggi riscossi sui transiti sono fonte di ricchezza. Alla fine del 200, Torino è conquistata dai Savoia, che hanno la sede del Ducato a Chambery. Nel 1563, Emanuele Filiberto, tetto testa di ferro, trasferisce la capitale del Ducato da Chambery a Torino. La città diviene il centro del sistema di fortificazioni del Ducato e, dal lato della strada di Francia, viene costruita la cittadella. Con Carlo Emanuele il Grande, la potenza del nuovo Stato assoluto e il ruolo che esso rivendica, si esprime in forma ancor più visibile, in un piano urbanistico, dove strategia militare e architettura civile si integrano in una città vasta e ordinata. Torino si amplia al di fuori delle antiche mura. La scenografia del potere è progettata con cura. Nasce la città del principe. Architetti come Ascanio Vitozzi, Carlo Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini, sono incaricati di progettare nuove vie e piazze e in poco meno di cent'anni, Torino riceve l'impronta che ancora oggi si può ritrovare nell'armonico insieme delle sue architetture. I Savoia partecipano alla guerra di successione franco-spagnola e nel 1706 Torino resiste a 117 giorni di assedio francese. Con la pace di Utrecht, nel 1713, Vittorio Amedeo II ottiene il titolo di re di Sicilia, mutato poi nel 1720 in quello di re di Sardegna. Per ridisegnare la capitale del regno, il re chiama a Torino l'architetto siciliano Filippo Iovarra. Si costruisce la Basilica di Superga, sorgono i quartieri militari di Valdocco, i nuovi borghi fuori delle mura e, dai progetti di Benedetto Alfieri, il Teatro Reggio e il Teatro Carignano. Dopo speranze ed entusiasmi, il periodo rivoluzionario prima e napoleonico poi è subito e malvissuto. Il sistema difensivo viene demolito e le porte abbattute. Torino è una città senza confini apparenti. Ma intanto, fra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, cresce a Torino una nuova cultura scientifica e tecnologica. L'industria conosce i suoi primi sviluppi e, nel 1837, l'avvio della compagnia di illuminazione a gaz per la città di Torino. In seguito, Società Italiana per il Gas, prima impresa del regno e fra le prime in Europa a produrre e distribuire gas illuminante. Il 4 marzo 1848, Carlo Alberto firma lo Statuto Albertino. L'anno seguente iniziano le guerre d'indipendenza. Durante i trent'anni di regno di Vittorio Emanuele II, il regno di Sardegna promuove il processo di unificazione italiana grazie anche alla lungimiranza politica, alla grande capacità diplomatica, alla cultura economica e istituzionale del conte Camillo Benso di Cavour. Torino è la prima capitale d'Italia e a Palazzo Carignano, il 18 febbraio 1861, si tiene la prima riunione del Parlamento italiano. Le strutture produttive ed economiche si ammodernano, ma con i primi passi dello sviluppo industriale aumentano le diseguaglianze sociali e all'opera delle prime società di mutuo soccorso e delle tradizionali opere pie, si affiancano le diverse istituzioni religiose. Torino si ingrandisce nuovamente, si realizzano le stazioni di arrivo delle ferrovie da Novare e da Genova, si inizia a costruire la mole antonegliana, si completa Piazza Vittorio. Nel 1865, con il trasferimento della capitale a Firenze, Torino perde popolazione e attività, ma il tessuto imprenditoriale reagisce e alle tradizionali manifatture si affianca un nucleo di imprese meccaniche e metallurgiche, mentre nelle barriere di periferia nasce una classe operaia che si specializza e si organizza. Nel 1899 viene fondata la fabbrica italiana automobili torinesi. Seguono poi la Itala, la Star, la Diatto Clement e nel 1906 la Lancia. Sul finire del XIX secolo, l'avvento dell'energia elettrica trasforma la produzione e anche la vita quotidiana in città. Letal Gas cambia la propria offerta e avvia la distribuzione di gas manifatturato per la cottura dei cibi e il riscaldamento. Ma Torino non è solo industria. Nel febbraio del 1896 apre in Via Poe la prima sala cinematografica e nel 1904 nasce la Ambrosio Film, prima casa italiana di produzione cinematografica. Si diffondono gli atelier di moda, si sviluppa l'uso della pubblicità e trionfano le esposizioni universali. Malgrado la Grande Guerra, l'industria continua a svilupparsi e il rapporto tra classe operaia e imprenditoria, anche se conflittuale, si configura come uno degli elementi di identità della città. Tra il 1920 e il 1922 le lotte nate per ottenere migliori condizioni di lavoro e più equi salari portano all'occupazione delle fabbriche. Si stampano la rivoluzione liberale di Piero Gobetti e l'ordine nuovo di Antonio Gramsci. Sinaugura nel 1923 lo stabilimento Fiat del Lingotto. La Torino di quegli anni si trasforma e si definisce. Nasce la nuova Via Roma e si costruiscono o si modificano in teri isolati. Nel 1938 apre i suoi cancelli il nuovo stabilimento Fiat di Mirafiore. La seconda guerra mondiale coinvolge Torino molto duramente. Decine sono i bombardamenti aerei. Centinaia le fabbriche danneggiate e migliaia le case distrutte. I lunghi e difficili mesi della Resistenza portano alla festa d'aprile. Le formazioni partigiane liberano la città. Torino è medaglia d'oro della Resistenza. Nel dopoguerra la ricostruzione si avvia velocemente. La città vive con i tempi della fabbrica ma è all'avanguardia in tutti i settori dell'industria ed è motore dello sviluppo dell'intero paese. Le grandi immigrazioni del sud dell'Italia e la produzione di massa non soltanto automobilistica segnano lo sviluppo di una città-fabbrica che a sua volta assume le caratteristiche di un laboratorio del conflitto sociale. La civiltà contadina si scontra con quella urbana. Intorno al sistema industriale si sviluppa tutta la vita della città che diventa il motore produttivo dell'intera nazione. La tradizione della grande architettura si rinnova con Nervi e Mollino. Nel 1961 Torino supera il milione di abitanti e, in occasione del centenario dell'unità, sorgono sulle rive del Po i moderni edifici di Italia 61. Nel corso degli anni 60 le lotte operaie studentesche sono causa di forte tensione ma anche di importanti trasformazioni del costume collettivo. Gli anni 70 vedono l'inizio di un'epoca industriale legata alle nuove dinamiche dell'economia mondiale, dell'organizzazione del lavoro e della produzione. Negli anni 80 si abbatte su Torino la crisi del sistema industriale. Lo stabilimento del Lingotto inaugurato nel 1923 chiude nel 1982. La città inizia a interrogarsi sulla propria identità ancora una volta il suo futuro è all'insegna del cambiamento. A partire dai primi anni 90 Torino si impegna in un processo di ricostruzione del suo ruolo nello scenario nazionale e internazionale mutato in seguito alla globalizzazione dei mercati, alla transizione post-industriale, alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, alla nuova geografia europea. Nel 1994 il Lingotto riprogettato da Renzo Piano riapre con l'inaugurazione dell'auditorium e del nuovo centro congressi. Diventa il simbolo della vivacità, dell'intraprendenza culturale e della nuova vocazione all'accoglienza della città, il luogo delle grandi manifestazioni internazionali, fieristiche, congressuali e culturali. Negli ultimi anni del secolo inizia la trasformazione di Torino, la città italiana che più cambia volto. ha avvio un vasto programma di riqualificazione urbana che ridisegna la mappa delle funzioni economiche e sociali creando nuovi aggregati di attività. Oggi Torino ha perso il monocromatismo che l'aveva caratterizzata nel corso del Novecento per sviluppare una base differenziata di ruoli e di funzioni. Resta a città dell'auto perché si conferma depositaria della cultura tecnologica della mobilità e delle capacità di formazione e innovazione. Ma ha assunto nel contempo un più attraente aspetto multiforme grazie alla progressiva convergenza di un'industria che non è solo manifattura e di un sistema dei servizi che si sviluppa dall'originario ceppo industriale. Si orienta alla promozione di un nuovo capitale umano più ricco e diversificato che trova alimento in una società locale dove si moltiplica l'offerta culturale e sono in miglioramento gli indici della qualità della vita. Le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 hanno rivelato al mondo una città inaspettata non solo a chi non sapeva collocarla sulla carta geografica ma anche a quanti già la conoscevano. Il successo ottenuto è stato un primo importante traguardo del profondo processo di trasformazione intrapreso. Grazie al rilancio e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico anche in chiave di promozione della città Torino diventa a pieno titolo città di turismo sommando all'offerta culturale la sua tradizionale capacità organizzativa e di accoglienza. A conferma del nuovo posizionamento all'interno del circuito turistico internazionale nel 2008 Torino conquista le tre stelle Michelin entrando così come località da non perdere nella speciale classifica della guida verde del turismo dedicata all'Italia del nord e pubblicata in tutto il mondo. Tutto questo è il presente. Questi sono gli elementi della Torino di oggi le componenti del piano strategico Torino internazionale che dal 2000 individua la visione per lo sviluppo e le azioni per ritornare ad essere autentica città internazionale. La visione del futuro di Torino nasce dalla storia della nostra città nasce dal passato e nasce dalle sfide che l'era della globalizzazione ci propone. Per noi si chiama modernizzazione dell'industria che vuol dire oggi costruire e produrre conoscenza applicarla all'industria ai servizi avanzati alla tecnologia attraverso la ricerca e la formazione diffusa. Fare questo vuol dire investire sul capitale umano, sulle persone che lavorano, che studiano, che ricercano e per far questo ci vuole una città aperta, cioè una città che materialmente sia collegata con le grandi reti nazionali e internazionali, ma anche con le grandi reti immateriali, le reti delle università, le reti della conoscenza. Vuol dire una città che non abbia paura delle grandi sfide poste dai flussi migratori, dalle grandi sfide della multiculturalità e della multireligiosità. Vuol dire una città dove si viva bene, una città con risorse culturali ampie, differenziate, accessibili, con una qualità ambientale elevata, con una qualità della vita e con una coesione sociale elevate. Oggi società coese, società in cui ci sia spirito e orgoglio di appartenenza sono società più forti. Tutte queste carte Torino le vuole giocare in un contesto territoriale più ampio, forti anche di quello che Torino ha già saputo fare. Le Olimpiadi del 2006 sono stati un momento alto per Torino ma anche per l'Italia. di capacità organizzativa, di capacità di mostrare al mondo quello che vale e quello che sa fare l'Italia. Abbiamo davanti a noi il 2011, i 150 anni dell'unità d'Italia, un altro grande momento in cui mostrare il volto vero dell'Italia che è quella di un paese, di una nazione che ha sempre saputo coniugare il saper fare come il saper pensare. Torino è una città che guarda quindi al futuro con lo spirito di chi sa essere forte delle proprie radici. Una città che proprio perché sa di essere stata la prima capitale politica, perché sa di essere stata la prima e vera capitale industriale del nostro paese trae da questo le risorse per guardare con fiducia alle sfide che ci pone il nostro futuro. Grazie a tutti.